Parliamo dei consigli comunali di Fasano e Monopoli. Iniziamo da quest'ultimo. Ieri sera è tornato a riunirsi quattro i punti iscritti all'ordine del giorno. Una seduta a fiume terminata intorno alle 2.00 e una seduta in cui è stato dato il via libera alla realizzazione della piscina a Lido Marina Grande. Ma gran parte della discussione è stata occupata dai preliminari. Sentiamo. Una seduta durata oltre 6 ore per il consiglio comunale di Monopoli tornato a riunirsi ieri sera. Tante ore se si considera che c'erano solo quattro punti iscritti all'ordine del giorno di cui il primo riguardante la lettura delle delibere precedenti. La verità è che si è perso molto tempo con i preliminari durati oltre due ore e mezza. Ma andiamo alla discussione. È stato rinviato il punto sul difensore civico a causa degli emendamenti presentati dal consigliere dell'Udc Corallo. Noi lo abbiamo fatto. Abbiamo proposto alcune modifiche. Dibattito infuocato sul punto inerente la realizzazione della nota piscina a Lido Marina Grande in località Capitolo Monopoli. Nonostante l'assenza del consigliere verde Angela Ciaccia e le perplessità espresse dal centro-destra il progetto è stato approvato. Discusso infine anche il punto inerente il contratto di quartiere. Da segnalare ad inizio seduta le dimissioni da presidente della seconda commissione consigliare quella del bilancio del consigliere Adriano Rivoli. Le mie dimissioni da presidente e da componente della seconda commissione. Motivi sono logici perché continuare a girare a vuoto senza che si presenti qualcuno neanche a dire buonasera, no, non c'è niente da discutere, mi sarei aspettato anche un pochino di rispetto da parte della... La seduta del consiglio comunale di ieri sarà trasmessa da Canale 7 lunedì a partire dalle 15.20. Invece può definirsi storico il consiglio comunale di Fasano che si è svolto nel pomeriggio di ieri perché la sisse cittadina con la presa adatto della cartografia variante al piano regolatore generale ha reso vigente lo stesso piano. Vincenzo Lagalante. Adatto della cartografia della variante del piano regolatore generale Fasano ora guarda con più fiducia al futuro. Ieri sera il consiglio comunale ha definitivamente dato l'ok per l'utilizzo delle tavole del piano regolatore generale e da oggi i tecnici possono lavorare con serenità tenendo conto di un unico piano regolatore generale quello approvato dalla regione Puglia nel luglio 2001 con la delibera numero 1000. Un iter che a dire travagliato è un eufemismo polemiche, ricorsi al TAR, accuse politiche alla fine però tutto il consiglio comunale ha adottato il piano regolatore generale che da oggi è un capitolo definitivamente chiuso una data storica quindi quella del 26 marzo 2004. Nei giorni scorsi c'erano stati innanzitutto 5 ricorsi al TAR respinti dai giudici lecesi in particolare i ricorrenti avevano contestato le ridotte quando non proprio annullate possibilità di edificare dei terreni di loro proprietà i giudici amministrativi salentini hanno ritenuto che la regione Puglia e il comune di Fasano nell'assegnare nuova destinazione urbanistica ai terreni di proprietà dei cittadini ricorrenti abbiano sufficientemente motivato la nuova scelta adesso lo strumento urbanistico dovrà superare l'esame di altri tre ricorsi non solo, anche una lettera con in calce le firme di una quarantina tra architetti, ingegneri e geometri per chiedere al sindaco Vita Mirabile di adoperarsi in prima persona per mettere fine una volta per tutte alla fase di stallo legata alla pratica attuazione della variante generale al piano regolatore al primo cittadino i tecnici fasanesi chiesero per evitare situazioni di ulteriore profondo disagio ai cittadini e a tutti gli operatori del settore di adoperarsi per rimuovere questa situazione di stallo e incertezza Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato il regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali con l'istituzione della DECO, la denominazione comunale di origine approvato, non senza polemiche, anche l'atto di indirizzo per i servizi alla persona mentre ritirati i primi due punti iscritti all'ordine del giorno la modifica all'articolo 12, dilazioni di pagamento del regolamento delle entrate tributarie e il regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali e delle contravenzioni al codice della strada un ritiro dettato per un lutto che ha colpito il consigliere Flavio Fenigliulo che ha la delega al controllo del bilancio Infine, rinviata la variante urbanistica e il progetto di trasformazione della masseria nuova in un complesso turistico locale e l'ampliamento dell'impianto per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione di prodotti ortofrutticoli presente in contrada con la russa nella zona industriale sud di Fasano Il Consiglio tornerà a riunirsi a breve per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo 2004, forse il 6 aprile Grazie Grazie